Vedete che si mette un po' isolato da una parte, si mette in questa posizione qui e comincia a usare un tono di voce abbastanza basso e dice al Weyer dammi un segno, dammi un segno. Sì, mi ha protetto. E chiede un segno. Che segno vorresti? Cosa devo fare? Lo sai tu cosa devi fare? No, non lo so. Lo sai che l'unione fa sempre la forza. Damia sa come un brivido, guarda Yaravel e va attanto così dal suo viso, lo guarda negli occhi e gli fa quel dato non funziona. Tu devi venire con lui, è chiaro? Non ti devi allontanare.